...nei continui, perché la casa dichiara appena 4,2 km di città e 3 km di città, quindi il ciclomisto. Ciò che ci impressiona nel nuovo modello Eco-Plex è il suo figlio, il rapporto con la comunità e la comunità della sua categoria. Valiatele, fronte, a calza di 97 cavalli e 1-2,785, che sono 94 grammi per chilometro. La velocità di l'effettura è eccezionale che fa ci sembrare di essere... Vieni a prendere il matto, vieni a prendere il matto, vieni a prendere il matto... ...el matto e garantisce che il contenuto di 200 millimetri per la velocità di punta nel 177 km a un'incor Yauri per risparmiare così tanto carburace ci si affidati anche il sistema start and stop più efficace che è stato il traffico cittadino che spegne il motore ad ogni sosta e media via premendo la frizione peccato però che il profilo avrà un luogo anche quando si apre lo sportello del guidatore nell'abitacolo spiccano nuovi tessuti per le sedute e nuovi materiali per la plancia con il sistema di potenza touch and corner dotato di navigatore GPS ingressi audio e USB abortabile anche